Oggi volevo fare due chiacchiere con voi su un tema estremamente attuale, anche se non dal punto di vista tecnologico modernissimo, perché parliamo di una tecnologia e un'idea che ha ormai dieci anni di vita. Però è estremamente interessante perché in questo momento, per ragioni che vi spiego tra pochissimo, sta acquisendo una importanza e una rilevanza non solo legata al mondo della finanza e delle monete o delle criptovalute, ma più in generale a qualunque tipo di applicazione alla quale potete immaginare che normalmente viene appoggiata dal punto di vista tecnico su un'architettura di tipo database. Penso che abbiate letto tutti quanti sul giornale quanto avvenuto nel mondo dell'informatica un paio di giorni fa, quando c'è stato questo attacco massiccio di cui tutti i media stanno ancora parlando adesso, che ha interessato moltissimi paesi, sentivo stamattina per radio 99 paesi sono stati contagiati da questo malware, anzi ransomware tecnicamente, quindi questo software che si installava sfruttando un bacco del sistema operativo, si installava sul computer, dopodiché faceva delle operazioni criptografiche sui file e vi proponeva un ransom, ransom vuol dire in inglese riscatto, quindi era una banale richiesta di riscatto, se non vuoi che i tuoi dati vengano distrutti, devi pagare una somma anche, non so quanto fosse, però normalmente non tanto alta, mi sembra di aver letto qualcosa tipo 300 euro, una cosa del genere, per avere tutti i dati salvi, ma oggi non parliamo di sicurezza o di criminalità informatica, ma parliamo della parte, prendo questo caso che tutti quanti conoscete per porre l'attenzione su una parte interessante anche di questo titolo che è il riscatto, la modalità che era stata proposta per pagare questo riscatto e quindi avere i propri file recuperati, si poteva pagare usando i bitcoin, questo ha fatto tornare, a me ha fatto anche comodo, perché così oggi posso, le prime due slide le ho fatte senza troppo pensarci, ma mi ha fatto molto comodo perché intorno alle monete virtuali, intorno al bitcoin, aleggia questo concetto che siano la moneta della malavita, la moneta utilizzata per gli scambi illeciti di denaro, cose che in parte sono vere per ragioni anche abbastanza evidenti che vi dico tra un secondo, ma in parte sono la classica leggenda metropolitana che fa comodo alimentare e portare avanti, in realtà bitcoin è molto di più, bitcoin è soprattutto tutto quello che ci sta dietro, che è quello di cui vi vorrei parlare oggi, più che del bitcoin in quanto moneta, in quanto valuta virtuale, perché è comunque un tema, è una tecnologia, una soluzione che è stata ideata nel 2008, quindi veramente stiamo parlando di qualcosa che ha una decina d'anni, una delle cose curiose di bitcoin è che non è nota l'identità di chi ha scritto il primo articolo su questa tecnologia e su questa moneta, è un signore che non si è mai palesato, si nasconde dietro uno pseudonimo o forse il suo nome, ma nessuno sa chi sia, nessuno sa effettivamente che faccia, quindi intorno a questo bitcoin c'è una certa curiosità sicuramente, anche alimentata da eventi come quello che abbiamo visto qualche giorno fa, ma non sempre a questa curiosità corrisponde anche una conoscenza di quello che c'è sotto, che è molto di più della moneta virtuale, molto di più di quello che si può fare con tecniche più semplici e moderne di pagamento. Tecnicamente più che parlare di bitcoin ha più senso parlare in generale di criptovalute al plurale, perché da quando è stata inventata, è stata messa in circolazione la moneta bitcoin, questo è un fenomeno che è cresciuto tantissimo e oggi ci sono centinaia di valute virtuali che in qualche modo funzionano in modo simile al bitcoin, ognuno con la propria peculiarità e le proprie finalità specifiche. Più che di valuta, perché appunto quello che sono venuto a raccontarvi oggi è che bitcoin, l'architettura sottostante la moneta bitcoin è molto di più della parte finanziaria, è molto di più della parte di scambio di denaro, più che di bitcoin e di moneta virtuale io parlerei di token o di gettoni, che sono degli oggetti virtuali che vengono generati in un modo abbastanza curioso, che vi dico tra un secondo, e ai quali viene associato anche un valore economico. Questo è il motivo per cui viene associato ed è cresciuta in maniera importante la parte di applicazioni legate proprio alla moneta. Queste monete, queste valute virtuali hanno un andamento altalenante, crescono e decrescono come valore se confrontate con i valori delle monete classiche, euro, dollaro o qualunque altra valuta tradizionale, e quindi sono utilizzate da persone anche per finalità speculative, quando una moneta cresce la si vende, quando il valore della moneta decresce la si compra, sperando che quest'altalena continui e che quindi mediamente nel tempo si riesca a incrementare il valore complessivo dei cosiddetti asset che uno ha nel portafoglio virtuale. Operazione molto rischiosa e molto pericolosa perché chiaramente queste valute sono molto volatili, quindi possono consentire di fare degli ottimi guadagni ma possono anche portare alla perdita di tutto quello che uno ha investito, quindi bisogna stare attentissimi a come le si utilizza. In realtà se uno dovesse dire in una frase che cosa è bitcoin e che cosa sono queste criptovalute sono un modo moderno di accumulare o mantenere, preservare e spendere, spostare soprattutto ricchezza, ricchezza, il concetto di ricchezza la possiamo associare direttamente alla questione economica ma in realtà vedrete che tutto quello che vi racconto ha delle applicazioni che sono anche non di tipo economico finanziario, però la cosa più semplice se uno dovesse veramente ridurre all'osso il significato del termine bitcoin, uno strumento per accumulare e muovere valuta e moneta. Perché questo è interessante? Perché lo spostamento della valuta, soprattutto quando gli spostamenti non sono di piccolo raggio ma sono spostamenti di tipo internazionale, spesso comportano delle complicazioni, delle difficoltà e dei costi. Nel momento in cui una valuta, un asset finanziario è virtuale, quindi non ha il problema del volume, dell'occupazione dello spazio, diventa molto più semplice spostarlo. Questa è una cosa che voi direte va bene ma questo io lo faccio sempre, se voglio fare un bonifico a un mio amico negli Stati Uniti vado in banca oppure lo faccio dal sito online, faccio il bonifico. Il problema è che qui comincia anche a emergere l'identità di queste monete e l'identità dell'architettura che ci sta sotto, io devo andare presso una banca, devo andare presso una istituzione che gestisce i miei soldi, ha i miei soldi in casa, li gestisce, li muove per me se io li voglio muovere, col bonifico, con operazioni di qualunque natura, a fronte di una certa commissione. Commissione che oggi, soprattutto se voi immaginate gli spostamenti di denaro internazionali è considerata molto costosa, se voi avete mai provato a fare dei bonifici a degli amici o dei colleghi, per esempio negli Stati Uniti o peggio ancora in altri paesi, paesi meno gettonati che quindi hanno costi ancora più elevati, non è difficile che anche per un bonifico di qualche centinaio di euro o di dollari equivalente voi paghiate 20-30 euro, 20-30 dollari di fee, di costo della transazione, di commissione, grazie. Questo è quello che un pochino ci frena e a chi conosce un minimo come funziona la tecnologia sottostante fa anche un po' di rabbia, perché spostare 10 euro da qui a un altro conto in banca italiano, dal punto di vista tecnologico è esattamente identico a spostarlo da qui agli Stati Uniti, quindi non si capisce perché qui costi 0 o 50 centesimi e mandare i soldi negli Stati Uniti costi 30 euro. Però siccome è una cosa che non si può fare in modo diverso, è ancora una delle zone dove c'è un presidio forte delle istituzioni centralizzate. Allora chi si è inventato queste cose qui ha portato come motivazione, che effettivamente ha senso, la facilità di spostare denaro anche da una parte all'altra del mondo con commissioni molto basse, quindi spostamento di denaro in modo semplice. Spesso spostare denaro, e qui mi ricollego a come abbiamo iniziato, alla prima slide, spesso spostare denaro è associato a proprio spostamento di volumi di denaro per scopi che non sono sempre i più leciti. Questa slide per esempio vi fa vedere come una persona stava cercando di portare del denaro attraverso le frontiere, ecco, allora i critici di queste tecnologie dicono ecco avete inventato una valuta, un sistema per facilitare le persone che altrimenti dovevano fare operazioni di questo tipo per spostare del denaro. Questa è una considerazione non sbagliata, ma non è di questo che dobbiamo parlare oggi. Quello che invece vi volevo raccontare, anche portandovi qualche esempio molto interessante che sta emergendo, è che cosa c'è sotto queste valute virtuali, cosa c'è sotto la moneta virtuale, cosa la differenzia ad esempio da uno spostamento fatto con l'home banking o da uno spostamento di denaro fatto con Paypal o con qualunque altra soluzione. La differenza fondamentale è che non esiste questo interlocutore centrale, quindi quando parliamo di criptovalute, quando parliamo di spostamenti di valute di questo tipo, stiamo parlando di un sistema dove viene a mancare l'istituzione centrale alla quale noi dobbiamo andare e chiedere il favore di spostare i nostri soldi da una parte dall'altra. Quindi è un sistema che è assolutamente distribuito e democratico dove vengono a mancare le grandi autorità. Tecnicamente la tecnologia o il sistema che c'è sotto è molto semplice ed è rappresentato da questa slide che è anche semplice da capire. Voi immaginate che ci sia, esista e sia consolidato questo modo di spostare beni, che poi i beni siano dei soldi o anche solo delle pure informazioni non cambia assolutamente nulla. E immaginate che tutti quelli che sono interessati a partecipare a questo sistema accettino di tenere a casa propria un libro mastro. Il libro mastro sarebbe una specie di registro delle transazioni. Io ho guadagnato questi soldi, poi ne ho dati un pochino al mio amico di qui, un'altra parte le ho spediti dall'altra parte e questo libro mastro è quello che normalmente qualunque istituzione finanziaria tiene associato al nostro conto corrente, quando voi fate l'estratto conto, l'estratto conto è l'insieme di queste transazioni. Allora voi immaginate che invece di avere un'istituzione centrale che mantiene queste informazioni, ognuno di quelli che partecipano a questa rete nuova, a questo nuovo modo di gestire i soldi, accetti di tenere sul proprio computer, anche il proprio computer di casa o il proprio server o il server aziendale, quello che volete, tutta la storia degli spostamenti relativi a questa moneta. Facciamo sempre l'esempio di bitcoin, ma in realtà vedrete che poi questo si applica a tutto il resto, sia dal punto di vista delle, sia per quanto riguarda le criptovalute, sia per quanto riguarda altri tipi di transazione. Quindi io che accetto di partecipare a questa rete, accetto di avere sul mio computer l'intera storia delle transazioni. Intera cosa vuol dire? Da quando? Proprio dall'inizio, cioè da quando il primo bitcoin è stato generato. Tra un attimo vedremo anche cosa vuol dire generare un bitcoin. Allora questa è già una rivoluzione, perché prima di tutto capite benissimo che stiamo proponendo un sistema, si sta parlando di un sistema dove tutti sul proprio computer hanno l'intera storia di tutte le transazioni, di tutte le persone che hanno spostato soldi. Quindi trasparenza, quindi conoscenza. La trasparenza si ferma poi all'identificatore dell'utente, perché poi quello che non c'è in questo sistema è l'associazione tra un numero, che è un numero complicatissimo e lunghissimo, che identifica il mittente e il destinatario, e un nome e cognome. Quindi quello non c'è. Ed ecco perché i signori che vogliono spostare soldi in modo anonimo sono contenti di questa soluzione. Però ripeto, gli usi illeciti per adesso lasciamoli da parte. Quindi voi immaginate di accettare, di tenere sul vostro elaboratore tutto quanto è successo nel mondo bitcoin in tutto il mondo, non solo qui in Italia o nel nostro paese, tutto. Tutto quello che è successo, chiunque abbia spostato anche solo una frazione di bitcoin dal proprio wallet, dal proprio portafoglio a un altro, voi accettate di tenerlo sul vostro elaboratore. Se siete uno non aiutate molto il sistema, se siete in due neanche tanto, se siete 10.000, 100.000, milioni di persone il sistema lo aiutate come? Perché? Perché avendo questa replica distribuita su tantissimi elaboratori, diventa praticamente impossibile falsificare le cose, perché sono informazioni che hanno tutti. E quindi un malintenzionato che intenda violare il sistema dovrebbe entrare e modificare, non fare hacking su un computer di una banca o un server di una banca e cambiare le informazioni sul server della banca, ma su decine di migliaia di elaboratori che magari sono in casa di utenti o comunque sono anche distribuiti. Quindi questa è una informazione, un'architettura che fa cadere la necessità di quello che tecnicamente si chiama il trust, cioè non c'è bisogno di un'autorità della quale noi ci dobbiamo fidare, perché l'autorità siamo tutti noi, tutti quelli che partecipano a questa rete. E questo è un elemento fondamentale dell'architettura. Questa architettura che prevede una replica distribuita su tantissimi elaboratori di tutta la storia di quello che è successo nelle transazioni associate al token, cominciamo a usare un po' di termine tecnica, è il token al quale siamo interessati, uno dei quali si chiama bitcoin, che è una moneta, è una tecnologia nuova, un'architettura nuova che prende il nome di blockchain, che è un'altra delle parole che a volte non è ancora tanto nota come il bitcoin, però è comunque l'architettura del sistema informativo che sta sotto la gran parte di questi tipi di nuove valute. Blockchain che cos'è? In inglese vuol dire catena di blocchi, quindi fa riferimento a come le informazioni relative a queste transazioni sono memorizzate nel database, tra virgolette. Il database qual è? Quello che ognuno dei nodi che partecipa al sistema bitcoin ha sul proprio elaboratore. Come funziona questa catena? Il famoso libro mastro di cui abbiamo detto prima, cioè quella struttura dati che mantiene tutte le informazioni relative a tutte le transazioni che sono avvenute nel mondo bitcoin in particolare, ma di qualunque criptovaluta che si basi sulla tecnologia blockchain, è organizzata in blocchi. In un blocco ci possono essere una, due, cento transazioni. Che cos'è la transazione? L'informazione, Edoardo ha mandato a Daniele due bitcoin. Daniele sarebbe particolarmente contento, stamattina il bitcoin valeva 1700 euro, quindi insomma diciamo che potrebbe essere contento di questa cosa. Allora, nel blocco si mettono queste transazioni. I blocchi si collegano poi uno all'altro, in modo che si possa scorrere tutta la catena in modo semplice, ottenendo una cosa molto importante. Voi siete in grado di ricostruire, siccome ognuno di noi ha sul proprio computer, ognuno di quelli che partecipano alla rete ha sul proprio computer la storia di tutte le transazioni, questo sistema è un sistema dove non esiste il concetto di saldo, saldo del conto corrente. Cioè non c'è scritto da nessuna parte che io ho tre bitcoin, non c'è scritto. Quello che c'è scritto è che io ho comprato il mio primo bitcoin nelle vacanze di Natale del 2016, da lì ho fatto acquisti, vendite, cambi, ho spostato denaro destra e sinistra eccetera e alla fine si arriva allo status attuale di oggi. Ma non c'è un posto dove c'è scritto quanti bitcoin io ho nel mio wallet. Chiunque voglia sapere quanti bitcoin ho nel mio wallet deve ripercorrere tutta questa storia e questo dà una garanzia importantissima. Se ci fosse un posto dove c'è scritto il mio saldo basterebbe entrare lì e cambiare quel numero e di conseguenza dare a me per esempio la possibilità di spendere dei soldi che non ho. Siccome non c'è questo posto, non c'è questo luogo che contiene le informazioni di saldo, il fatto stesso che io debba spazzolare tutta la storia delle transazioni dall'inizio fino ad oggi garantisce che io abbia quei soldi che sto mandando al mio amico Daniele. Semplicemente perché si vede quando io ho generato o creato o guadagnato il primo bitcoin e da lì in poi c'è un po' di dare, un po' di avere e quando arrivo ad oggi al fatto di dover inserire questa nuova transazione nel blocco, il sistema facendo dei più e dei meno ha capito se io oggi ho quei soldi oppure no. Se non li ho la transazione viene invalidata e i soldi l'amico Daniele non li riceve. Se invece quei soldi ci sono grazie alla storia passata la transazione può avere luogo. Quindi questa è una verifica che viene fatta. Dopodiché ogni blocco è collegato al precedente e le informazioni, adesso non la faccio tanto complicata, c'è dietro della matematica piuttosto sofisticata dietro queste cose qui, i blocchi sono collegati in modo che se io cambio un valore qualsiasi dentro un blocco generato nel passato, per rendere la blockchain ancora valida devo cambiare anche tutti quelli successivi. Questo per rendere complicato, ancora più complicato e praticamente impossibile la forzatura delle informazioni. Io potrei generare delle transazioni nel passato che mandano nel mio wallet dei soldi, così potrei avere più disponibilità di soldi da spendere. Questo io non lo posso fare perché se andassi a modificare un bit di informazione nella blockchain dovrei cambiare tutta la storia della blockchain, cosa che ovviamente non è possibile perché la stessa blockchain è replicata su tantissimi nodi e quindi la cosa non è fattibile. Ebbene, la struttura risultante è quella che vedete lì nella slide, di fatto è proprio un trenino, una serie di blocchi collegati uno all'altro che si può spazzolare in una direzione o nell'altra per andare a fare tutte le verifiche del caso. Questo che vi sto dicendo ha una conseguenza importante dal punto di vista pratico, nulla si può modificare di quello che è scritto nella blockchain. Quindi se io mi accorgo di aver fatto una cosa nel passato che era sbagliata, non posso andare indietro e dire ok annullo quella fattura, annullo quella fattura, tutto sparisce e siamo a posto. No, devo agire sempre nel presente, quindi devo tracciare in maniera precisa e accurata tutto quello che succede anche quando devo cancellare delle cose fatte nel passato, devo scatenare un'azione uguale e contraria che cancella l'effetto della precedente. Quindi vedete che questa è sì una base dati, alla fine la blockchain è una base dati nella quale vanno a finire queste cose, però è una base dati estremamente interessante perché uno è accessibile da tutti, tutti la possono vedere. Due, non è cancellabile, non è modificabile, quindi io una volta che il blocco è stato validato, questo poi è un punto importantissimo sul quale si basa tutta la tecnologia, una volta che il blocco è stato validato, cioè attaccato alla blockchain e riconosciuto come parte della blockchain, non si può più cambiare. Allora tutte le applicazioni che hanno queste caratteristiche, cioè hanno bisogno di sapere esattamente che cosa è successo, quando e da parte di chi. E devono tenere traccia di una storia, quindi non solo spostamenti di soldi, ma ad esempio, non so, mi viene in mente la catena del freddo. La catena del freddo sarebbe bello se il sacchetto di surgelati che andiamo a comprare al supermercato avesse associata tutta la storia di come è stato trattato da quando il cibo è stato raccolto o quando è stato messo per la prima volta in congelatore fino a quel momento. Questo sarebbe importante per il supermercato, sarebbe importante per il cliente finale, sarebbe importante per il produttore, per tutti quelli che fanno parte della catena. Ecco, allora tutte le applicazioni che in qualche modo hanno bisogno di tenere traccia di quello che è successo, trovano nella blockchain l'architettura ideale. E questo è quello che si sta scoprendo in questi mesi, stanno venendo fuori delle idee molto interessanti che potrebbero avere, anzi avranno, perché si vedono già delle aziende che nascono e dei grandi investimenti fatti in questo senso, avranno una importanza significativa. Cosa che a me fa sempre piacere perché tutte le volte che c'è qualcosa di veramente disruptive, veramente nuovo, nascono anche tantissime opportunità. Opportunità di lavoro, opportunità di crescita professionale, opportunità di nuovi mestieri, eccetera. Come è fatta la verifica di un blocco? La verifica di un blocco deve essere per sua natura un'operazione complessa, perché se fosse una cosa rapida che si può fare in 448 diventerebbe più facile forzarla. E quindi anche nell'ipotesi che qualcuno riuscisse a forzare un alto numero di elaboratori, se poi una volta arrivati sulla macchina si potesse rifare velocemente tutta la blockchain sarebbe molto semplice. Allora si è aggiunto una complessità in più, cioè ai semplici calcoli che sono calcoli di tipo matematico-crittografico che servono a validare un blocco, si è aggiunta una complessità che li rende molto più complicati e sofisticati, in modo da rendere veramente impossibile il fatto di modificare un blocco specifico e tutti quelli che ci sono a bordo. Siccome nel tempo il numero di transazioni cresce, perché ogni volta, immaginate, ogni secondo qualcuno usa, vende, compra usando bitcoin, la complessità di questo algoritmo viene modificata nel tempo, in modo da rendere sempre costante il tempo che ci vuole a fare la validazione di un blocco. Nel mondo del bitcoin ad esempio c'è una tecnica di fine tuning molto interessante che fa sì che mediamente venga generato un blocco nuovo ogni 10 minuti. Che poi ovviamente sono tempi medi, a volte la verifica dura di più, a volte dura di meno. Quello che verrebbe da chiedersi è ma perché mai uno dovrebbe prendersi la briga di mettere sul proprio elaboratore il software che serve a fare queste verifiche, poi collegato in modalità peer-to-peer con tanti altri nodi per far funzionare questa blockchain. Ma chi me lo fa fare? E allora qui viene l'altro punto estremamente importante della tecnologia blockchain. Il primo nodo che riesce a verificare la correttezza di un blocco e quindi a generare un blocco che diventa parte della blockchain viene remunerato, cioè questa operazione viene remunerata, ovviamente usando il token associato alla blockchain di cui stiamo parlando, in questo caso viene remunerato in un certo numero di bitcoin. E quindi c'è un incentivo a fare questo che per un po' è stato anche considerato quasi un mestiere e di fatto sono nate delle aziende che di mestiere fanno il cosiddetto mining dei bitcoin, cioè mettono a disposizione delle grandi server farm o comunque delle grandi capacità informatiche al servizio del mantenimento della blockchain che sta al di sotto della moneta bitcoin. Questo tra l'altro non è un mestiere di quelli così che si fa la sera in casa nel tempo libero oppure sul proprio portatile, cioè ci sono delle server farm che hanno dei piani interi di server con migliaia di macchine che fanno il mining di queste cose, perché magari poi quando si arriva a verificare un blocco si guadagnano 5, 10, 15, 20 bitcoin, quindi stiamo parlando di 20, 30 mila euro potenzialmente se uno riuscisse a farli tutti ogni 10 minuti, quindi è un bel business che qualcuno ovviamente ha interpretato nel modo corretto e si è tuffato in questa nuova attività. Di nuovo per farvi capire l'importanza di questa cosa, sono anche nati dei chip, dei microprocessori fatti apposta per svolgere i calcoli che ci stanno, i calcoli critografici che stanno dietro la validazione di un blocco, quindi il mondo che è un mondo che si muove solo quando ci sono dei numeri importantissimi, che è quello delle silicon foundry o comunque di chi progetta e realizza i circuiti integrati, si è mosso per mettere sul mercato dei microprocessori in grado di facilitare questo compito, quindi è una operazione estremamente interessante che però dà una robustezza enorme alla rete, quindi chi utilizza i bitcoin ha la tranquillità che l'architettura sottostante è estremamente significativa e estremamente importante. Altra caratteristica delle monete, dei token di questo tipo è il numero finito di token che possono essere in circolazione, che serve a mantenere costante o a fare crescere il valore del token stesso. Allora i bitcoin per esempio, ogni valuta, ogni token ha la propria regola, nel mondo del bitcoin si è stabilito che esisteranno al massimo 21 milioni di bitcoin, quindi non ci potranno mai essere in circolazione più di 21 milioni di bitcoin. Oggi ne sono stati generati e messi in circolazione 16 milioni, quindi c'è ancora spazio per un po' di crescita. Come vengono generati i bitcoin? Come vi ho detto prima, quando un miner riesce a risolvere il problema matematico che c'è dietro a un blocco, gli viene dato come premio un certo numero di bitcoin, generati dal nulla, è così che nasce la moneta, è come fosse veramente la zecca che tira fuori del nuovo denaro. Quindi questo è come funziona tutto il sistema, adesso le componenti le abbiamo buttate lì un po' casualmente, però direi che gli elementi ci sono tutti. Diventa chiaro a questo punto capire quali sono gli effetti positivi che abbiamo dall'uso di queste architetture. La sicurezza è garantita dal fatto che, dal fatto intrinseco che c'è una replica su un numero talmente grande di elaboratori che la forzatura o la azione malevola per modificare queste informazioni è praticamente impossibile, perché l'informazione viene ritenuta valida se il 50% più uno dei nodi che partecipano alla rete dichiara che è un'informazione valida. Allora bisognerebbe corrompere in senso tecnico, in senso più classico della malavita, la metà più uno dei nodi che partecipano alla rete bitcoin per poter falsificare le transazioni. Quindi questo rende estremamente intrinsecamente sicuro questo sistema. Il trust, cioè il fatto di fare affidamento a qualcuno di cui ci possiamo fidare per gestire il nostro denaro, è un concetto che addirittura non serve, perché di nuovo le informazioni relative a quello che noi abbiamo, abbiamo guadagnato, abbiamo perso, abbiamo venduto, abbiamo comprato, acquistato, sono tutte memorizzate, replicate su decine di migliaia di nodi e di conseguenza ancora una volta non c'è bisogno di fidarsi di una banca o di fidarsi di un notaio o di fidarsi di un'altra organizzazione, perché la fiducia è intrinseca nel fatto che c'è un enorme numero di repliche. Detto tutto ciò, quindi finita questa panoramica sul bitcoin e sulla parte espressamente finanziaria, viene la parte più interessante dal punto di vista anche applicativo, perché come vi ho detto all'inizio, l'applicazione delle criptovalute è solo la più evidente e la prima che è stata identificata per questo tipo di architettura, ma in realtà qualunque altra applicazione che abbia bisogno di dati gestiti in questo modo può pensare di appoggiarsi sopra un'architettura simile alla blockchain. Quindi la compravendita immobiliare, ma anche la parte di contratti firmati e validati da un notaio, teoricamente potrebbero essere sostituite dagli stessi contratti memorizzati, firmati tecnicamente si direbbe firmati digitalmente, memorizzati dentro una blockchain, perché una volta che un certo contratto, un certo testo, qualunque che esso sia, un certo testo, voi lo firmate digitalmente e mettete dentro la blockchain il testo con la firma digitale, quello lì, come la posta certificata, non può più essere confutato, non può più essere modificato e quindi sostituirebbe, se il mondo recepisse la potenza di questa architettura, sostituirebbe anche la certificazione notarile. E ce ne sono tante di applicazioni che hanno bisogno di questo tipo di soluzione. ne ho prese tre da portarvi come esempio, le ultime tre slide, così potete, se siete interessati, andare a vedere i dettagli. Un progetto molto interessante che si chiama progetto Oaken, che è il primo progetto che ho visto, poi ne sono nati altri, che propone di usare la blockchain per l'internet of things, cioè per memorizzare all'interno di questa struttura, di questa architettura i dati provenienti dall'internet delle cose, che adesso più o meno sappiamo che cosa voglia dire, che cosa sia, cioè tutte queste informazioni generate dagli smartphone, dalle vetture, dai sensori meteo, dai sensori di consumo energetico, cioè il mondo sta generando dati, questo è inutile che ve lo racconti io, lo sapete benissimo. Ecco, allora l'architettura blockchain è un metodo ideale per memorizzare tutti questi dati, perché ogni informazione messa nella blockchain ha un suo timestamp e quindi sappiamo esattamente quando è avvenuto un certo fenomeno, che cosa è successo esattamente, eccetera. Questo progetto è un progetto che cerca di essere anche un po' di effetto, propone come internet of things, come applicazione di internet of things il pagamento dei caselli autostradali e fa l'esempio, per essere ancora più spettacolare, utilizzando una Tesla, quindi l'applicazione con tanto di video che c'è sul loro sito è una Tesla equipaggiata con la tecnologia che serve per passare sotto un portale, un casello e pagare l'autostrada utilizzando questo tipo di sistema, quindi l'informazione che quella macchina in quel momento è passata sotto a un certo casello è memorizzata dentro la blockchain, è una delle applicazioni. Ho preso questa foto che non è la più bella esteticamente, ma perché vi fa vedere anche il livello di tecnologia che viene utilizzato, queste sono cose evidentemente prototipali, vedete che ci sono dei sensori cablati così in modo molto sommario per vedere se la cosa funziona, quindi questo è un progetto che non è ancora un prodotto direi io, però è interessante perché propone un concetto nuovo. Ci sono poi degli altri usi che sono invece più avanti dal punto di vista della vicinanza al mercato, questa è una start up torinese che mi fa particolarmente piacere citare oggi, che si chiama Helperbit, diciamo che è ancora una volta della famiglia delle applicazioni di tipo finanziario, però è interessante perché loro si propongono come veicoli trasparenti, questa è la novità interessante, completamente trasparenti per la trasmissione di denaro alle persone che sono colpite da calamità naturali di qualunque tipo. Ho fermato il video che c'è sul sito proprio su questo disegno perché mi sembra particolarmente interessante, loro si propongono di risolvere il problema che tutti abbiamo, o meglio la resistenza psicologica che tutti abbiamo nel dare denaro a organizzazioni che poi lo portano ai gruppi di persone disagiate perché, ce lo possiamo dire tranquillamente, non sappiamo mai, una volta che io metto 100 euro per aiutare una qualunque ONG, una qualunque iniziativa, non so all'effettivo bisognoso quanti euro di quei 100 arrivano e questo è quello che è espresso in questo bel tubo, nel video si vede entrare il 100% della donazione nella pipe più grande, dopodiché una parte viene lasciata al governo, una parte va in fee, una parte va in costi amministrativi, una parte viene rubata, una parte va al middleman che è sempre più di uno e alla fine al recipient, cioè quello che veramente ha bisogno, arriva al 30%, ovviamente numeri buttati lì, però è interessante perché noi di solito non abbiamo nessuna visibilità di nessuno di quella roba lì, noi abbiamo la sensazione di aver dato 10 euro per una buona causa, ma non sappiamo quanti euro sono arrivati nel portafoglio di chi aveva bisogno. Ecco, con una tecnica come la blockchain non è che si eliminino tutti quei, tutte quelle uscite di denaro, perché comunque la gestione delle operazioni umanitarie va fatta, ma c'è la trasparenza totale di che cosa effettivamente è successo, quindi se si utilizza un veicolo come possono essere questi ragazzi che si propongono di mettersi in mezzo tra il donatore e il recipient della donazione, voi come minimo avete la tranquillità di poter vedere, voi personalmente, quindi non dovervi recare da qualcuno che vi spiega le cose, ma voi personalmente col vostro computer andate a vedere la transazione con il vostro identificatore e vedete da quella quante altre transazioni si sono generate, cioè dei vostri 10 euro, 100 euro donati alla buona causa quanti sono arrivati nei vari rivoli, quanti si sono dispersi nei vari rivoli e questo contrasta come minimo la parte illecita o comunque meno positiva di queste cose, ancorché ci sia, e soprattutto dà a voi la sensazione di poter sapere esattamente quanto va a finire a chi ha bisogno e io credo che questo sarà un buon incentivo per incrementare anche le donazioni. Stessa razza ma su scala molto più grande è questa iniziativa che si chiama Humanic, che è un'altra criptovaluta che è invece dedicata ad aiutare le persone che non hanno accesso alle banche, quindi se andate a leggervi il loro sito devo dire fatto abbastanza bene, si spiega abbastanza bene, è un'iniziativa che appena lanciata in un mese ha raccolto diversi milioni di dollari in acquisto di questa moneta, chiamiamola così, che è dedicata a servire le persone che non hanno appunto accesso alla banca, quindi non per togliere la banca dove la banca c'è, ma per portare la possibilità di fare scambi, acquisti eccetera, a chi ha solo a disposizione magari un telefono mobile. Tenete conto che anche nei paesi poveri o in via di sviluppo le tecnologie mobili sono enormemente sviluppate, quindi la critica che potrebbe venire subito dicendo eh sì, vai in un paese dove non c'è la banca e gli porti un'applicazione che funziona se tu hai lo smartphone ebbene sì, quelle popolazioni lo smartphone ce l'hanno tendenzialmente, no? O comunque la causa in questo esempio qui è quella di aiutare le persone che magari hanno la banca a 30 chilometri o a due giorni di viaggio e quindi non usano di fatto questo tipo di soluzioni. Quindi anche questa è una start up, perché poi dietro a queste cose qui ci sono sempre delle start up, questa è abbastanza robusta perché appunto ha fatto una raccolta interessante, ancora una volta per una buona causa. Se voi vi mettete a cercare su internet iniziative di questo tipo ne trovate non dico una al giorno ma quasi perché in tutti i momenti nasce qualche cosa legato a questa nuova tecnologia. Io credo che sia veramente, come dicono tanti, una nuova rivoluzione, cioè questo è un nuovo modo di gestire il dato, è un nuovo modo che cerca di scardinare le organizzazioni centralizzate ma non per voler fare una guerra ma semplicemente per poter dare a tutti la possibilità di accedere a servizi a costi che siano costi ragionevoli. È evidente che queste tecnologie che ormai hanno appunto un certo numero di anni suscitano anche l'interesse delle organizzazioni finanziarie che oggi gestiscono le transazioni e quindi ci sono dei consorsi anche molto importanti, mi sembra uno si chiama B3, che raggruppano 40-50 grandi banche, grandi organizzazioni che stanno interrogandosi su come magari loro, al loro interno, potrebbero utilizzare questo nuovo modo che comunque al di là dell'applicazione specifica garantisce una grande sicurezza e una fiducia, una robustezza del sistema che nessun'altra soluzione fino ad adesso poteva mettere in pista. Dal punto di vista tecnico, ripeto, non c'è una novità totale, perché qui stiamo parlando di critografia che è una cosa che esiste da tantissimo tempo, le tecniche chiave pubblica, chiave privata che si usano dappertutto, da tantissimo, database distribuiti non è certo un'invenzione quella, la novità sta proprio nel fatto di replicare questo database, introdurre questa che si chiama proof of work, quindi un grande lavoro di tipo computazionale che rende difficile la violazione di questi dati, la collaborazione e il consenso, che di nuovo non è una novità tecnologica, ma è una soluzione che però garantisce sicurezza e affidabilità al sistema. Questa era l'ultima slide, spero di avervi dato come minimo un po' di spunti e se avete bisogno di ulteriori informazioni, credo che poi questi lucidi in qualche modo saranno dati a disposizione, altrimenti qui ci sono i miei recapiti, mi trovate. Io lavoro all'Istituto Boella, faccio anche un minimo di piccolo marketing, l'Istituto si sta evolvendo in una fondazione che si chiama Fondazione Links, che raggruppa diverse istituzioni che si occupano di ricerca e innovazione sul territorio torinese, quindi un'operazione di sistema molto importante, pilotata dalla Compagnia di San Paolo e dal Politecnico, che stanno facendo un'azione di sinergia e di messa a sistema di grandissime competenze e potenziali che ci sono in città e sono adesso solo un pochino scordinate. Quindi se vi capiterà nei prossimi mesi di sentire parlare di Links, ricordatevi che è il futuro dell'Istituto Boella e di tante altre istituzioni che ci stanno intorno. Noi siamo dentro il Politecnico, quindi quando volete mi potete cercare e venirci anche a trovare. Grazie tanto.